Ehi la ciurma! Io sono Mezzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Sid Mayer's Pirates! Ecco, andiamo a trovare l'ultimo tesoro, poi magari andremo verso la città di Leogane, ma sarà un percorso lungo perché dobbiamo andare contro vento. Ehm, tra l'altro ho visto che a nord di Florida Keys, e noi siamo a Florida Keys, e capo del governatore, dobbiamo andare a cercare vicino al capo del governatore, quindi... Partiamo all'avventura, ragazzi! Dovremmo prendere poi anche delle altre navi, perché adesso avendo appena ricominciato abbiamo solo questa e non abbiamo praticamente un Kaiser di nulla. Però, innanzitutto andiamo a cercare il tesoro che potrebbe esserci molto utile come Big Money. Per... Poter comprare qualcosa se per caso ne avessimo bisogno. Adesso abbiamo CB per 6 mesi, e... Dovrebbe bastarci per un po', ma poi dovremmo tirare giù un po' di... Sì, gettiamo qui le ancore e andiamo a vedere se troviamo il nostro carissimo tesoro. Che bella... Cosina, che bella... Bandierina, che sventola! Allora, dobbiamo andare a cercare la roccia dell'arco e continuare a sinistra. Allora, quindi dobbiamo andare un po' di qua. Uh, roccia del... ma è questa la roccia dell'arco? I due alberi secchi? Sì! Ma è già tutto qui? No, forse sto sbagliando. Forse ce n'erano altre. Meglio controllare... No, roccia dell'arco... Due alberi secchi. Quindi dovremmo tipo... Continua... Eccolo! Eccolo! Cioè, più fortuna di così... Tipo un minuto? Quanto c'è voluto? Vediamo quanti soldi... È l'ultimo questo, eh? È l'ultimo quanti soldi? Diecimila! Diecimila pezzi d'oro! Ragazzi, abbiamo trovato... Tutti i tesori! 9 su 9! 9 su 9! 9 su 9! 9 su 9! Ma come? Forfanti vendicati? Ne ho beccati ovviamente un po' di... Terra ho 4350 acri. Punti ricchezza 9 su 24. Quindi non sono tanti. Punti impresa 41. Dovremmo andare a cercare... Vediamo come sono le guerre adesso. Spagna e Francia. Spagna e Inghilterra. Francia e Olanda. Ora come ora. Quelli che esistono di più... E che sono un po' più forti... Sono i francesi. Quindi dobbiamo andare a dare contro la Spagna. Perché l'Olanda non ho voglia di dare contro l'Olanda. Siamo sempre contro la Spagna. Tutti contro la Spagna. Sempre contro la Spagna. E adesso troviamo qualcuno, più che altro. Ci troviamo qualche bello spagnolo da spennare. A cui prendere qualche migliaio di triliardi di pesetas. Quanto è odioso viaggiare contro vento. Viaggiare contro vento. Abbiamo un'ottantina di tizietti qua. Però dovremmo andare a cercare un pochetto di spagnoli. Quindi forse qua giù. Dove c'è la Habana e tutte queste altre cose qua. Anche se... Hanno un sacco di gentaglia solitamente a bordo quelli. Bisogna cercare di trovare qualcosa che non sia mastodonticamente enorme. Tipo un contrabandiere. Ecco un contrabandiere sarebbe un buon obiettivo. Ma secondo me se tutto ci va bene. Come sta andando bene adesso. Troviamo. Sì e no. Un trasporto truppe con 200 uomini sopra. E tipo. 100 cannoni. Quindi. No non so se c'è uno che può contenere 100 cannoni. In realtà. Però un'ottantina sì. Le abbiamo già viste quelle da 80 cannoni. Ah qua c'è un insediamento spagnolo. Quindi magari troveremo delle navi spagnole qua in giro. E speranza? Ci sono... C'è speranza di qualche nave spagnola? Spagnolezante? Capitano. Nulla viene avvistato dai nostri potentissimi binoccoli. Cambio il visore com'è? No no non voglio cambiare il visore. Chi è qui? Sono francesi. Sono francesi. Ma porca di una miseria. Ci mettiamo a guarigliare gli spagnoli. Non c'è più uno spagnolo. I francesi. Se avessimo dovuto cercare un francese. Avremmo trovato solo spagnolo. Altri francesi. Ma porca. Altri francesi ancora. Oh ma cos'è la donata mondiale dei francesi sto giro? Tempeste. E' un insediamento spagnolo. Ma degli spagnoli. Cioè ci sono degli insediamenti disabitati. Non c'è nessuno che... No eh. Nessuno proprio. Blacktown. Covo pirata. Tortuga dovrebbe essere spagnola no? Francesi. Tanto per cambiare. No Tortuga è diventata francese. Anche là sono francesi? Anche là sono francesi. Solo francesi ci sono. Altri francesi. Ma basta. Abbiamo uppato forse troppo i francesi. Adesso ci sono i padroni del mondo qua. Incontrostati. Però qua dovrebbe esserci le ogane. No? Ehi 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 ehi. Uh qua c'è un insediamento inglese. Non ci credo. Però non abbiamo mica trovato navi inglesi. Mercantile. Ci proviamo. 59 uomini. Sì. Ragazzi si può fare. 10 cannoni. Non ha nessun potenziamento. Quindi. Non ci sparano. Si arrendono. Speriamo. No non si arrendono. Però se non l'altro non abbiamo danneggiato niente. E adesso. Pam pam. Dovremmo avere un discreto vantaggio. Questo tra l'altro non ha neanche l'armatura. Quindi. Dovrebbe andarci di lusso. E. Oplala. Adios amigos. Oh finalmente abbiamo trovato qualcosa di spagnolo. 8 marinai. Perfetto. Un po' di oro. Non tanto però. Uh abbiamo 51 tonnellate di merci. Che non è niente male. Questo lo teniamo. Sì perché non abbiamo un kaiser di nave. Sennò. Ok che non è un gran che come nave. Perché non ha nessun upgrade. Sì la canova di guerra. Non ce ne facciamo niente. Però vabbè lì. Non credo neanche che si possa upgradeare una canova da guerra. Leogane dovrebbe essere proprio da queste parti. Dove ci avevamo detto che ci davano i cannoni quelli di ferro. No i cannoni di bronzo. Quelli tosti. Che sono davvero pie. Qua non serve il mese per fabbricarli se non altro. Uh quel. Non ce la faremo mai a pigliarli quelli. Vabbè meglio così. Sennò magari ci spaccano di botte qua. Allora noi andiamo dal mercante. Io direi che... No non compriamo ci... Uh vendiamo... Vendiamo tutte le merci che... Si può. Tutte le merci. Sì 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 sì. Via. Perfetto. Cannoni no li teniamo. Il cibo lo teniamo ma non ne compriamo. Maestro Dasha. Sì. Cannone di bronzo. Questo lo mettiamo al cannone di bronzo. Ci può stare dai. Intanto abbiamo un po' di soldini. Eh... Taverna. Taverna taverna taverna. 19 uomini. Benvenuti. Perfetto. Eh... Nombro di Dioz. Ok. Akiten. È piena di soldi. Vabbè. Montalban. Ma non mi interessa di Montalban. Sono scarso Montalban. I miei familiari si arrangeranno un po'. Vediamo se riusciamo a ribeccare quella nave spagna. Ma secondo me ormai è andata a chissà dove. Chissà dove è andata sto giro. Eh no infatti. Nulla all'orizzonte. Nulla di nulla. Uh uh. No no no. Eccola. 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 Galeone mercantile spagnolo. Sappiamo quanti... Possiamo sapere con il binocolo quanta roba ha? Sì. 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 Si può fare. Si può fare ragazzi. Finalmente troviamo qualche navetta spagnola. Tardo senza potenziamenti. Con un Kaiser. Gli spagnoli. Cioè c'è ancora un sacco di insediamenti ma... Sono un po' nella shish. Oh ma non riesco ad andare addosso. Che Kaiser. Ma come fa a viaggiare là quella? Mi fai andare all'abordaggio? Ok. Oh. Alleluia. Ah no. Si arrende. Vabbè ma non fico secco di niente. Articoli di lusso però. Questo è buono. Prendi tutto e tieni anche quella. Che poi la andiamo a vendere. Altri spagnoli. Non ci posso credere. 3 di fila mi sembra troppo fortunello come cosa. Trasporto truppe. Ti tiriamo giù bello. Per forza. Ma cos'hai? 3 cannoni. 6 cannoni eh. Ma sta già prendendo fuoco. Che Kaiser. È già parzialmente affumicata. Che Kaiser. Dai. Bello. Ci facciamo un bel bagnetto. Ci avete distrutto gli olandesi. Adesso noi distruggiamo a voi. Yeah. Perfect. Perfect. Very perfect. 18 marina. Ma sì dai. Fin tanto che abbiamo un po' di morale. Uh. Un sacco di articoli di lusso. No. Non l'ho detto. Prendi tutto. Kaiser. Ma son scemo. Ma son scemo forte. Ci ho distrutto della roba così a caso. C'è quella nave sta prendendo fuoco davvero. Dobbiamo andare a ripararla sta nave. È un altro mercantile là del Kaiser spagnolo. Petit Goave. Dov'è Petit Goave? Devo arrivare a Petit Goave. Guidami tu. Trasporto truppe. Guidami tu. Che io ho tipo tre navi in fiamme dietro. Ma dov'è sto Petit Goave? Dov'è sto Petit Goave? Se poi stiamo andando esattamente contro. Ma è la faccia del povero porto. C'è un frocco di case. C'è anche il bastione a difendolo. Ah l'Eugane invece prospera. Però guarda come si muove la bandiera. Con tutte le navi che ho sfasciato. Ma è sempre un povero porto. Lol. Alla faccia del povero porto. Adesso saranno contenti i francesi vero? Dai dai. Ah non sono più in guerra con gli spagnoli. Ma è dannazione. No. I'm sorry. Una miseria. 61. Ma si dai. C'è un equipaggio così grande. Bello. Non ho voglia di robe d'oro. Ganoe spagnolo. Vabbè. Mille pezzi. Sai che... Mannaggia. Ricchezza pura. San Juan. Ma ho capito del Monte Alban. Ma... Eh infatti. Ho buttato a mare gli articoli di lusso. Ma ci pensate? Ho buttato a mare gli articoli di lusso. Compriamo un po' di cibo. Perché qua abbiamo pochissimo cibo. C'è un fraco di gente da... Sfamare. Maestro Dasha. Ripariamo questa. Facciamo potenziamento a mach triple su questa e la ripariamo per tenercela. E queste due le vendiamo io direi. Vendi. E... Vendi. Sì. Ci sta. E... Oni va. Però adesso sono in guerra solo con gli spagnoli. Che Kaiser facciamo allora se sono in guerra solo con gli spagnoli? Non è un gran che qua eh. C'è con gli olandesi? Ci sono gli inglesi che sono in guerra con la Spagna. Come si è messi con gli inglesi molto male. Però gli inglesi... Dove ne troviamo gli inglesi da tirare giù? Non esistono gli inglesi. Cioè non ne vedo da generazioni tipo. Canola da guerra indiana. Sì. Sono direte più di Gov. Tiriamola giù senti. Senti bel bimbo. Lascia stare i nostri amici francese. Laissele morire. Ampe. E ne detruise pa' notro e basso. La Vessele. Vai. E a sto giro facciamo che andare a dire i francesi. Ehi. Guarda che bello. Via via. No. Andiamo in qua va. Che se torniamo di là ci mettiamo poi 300 secoli a tornare indietro. Sfasciamo questi spagnoli. Ma no. Non sfasciamo questi spagnoli. Sennò non c'è nessuno poi più con cui... No. Non attaccarlo. Senti. Dobbiamo fare un po' amicizia con gli spagnoli adesso. Perché la guerra è cambiata. Trasporta grano. E trasporta grano. Uh. Adesso pagano tutti gli spagnoli. Abbiamo detto. Non attacchiamo più gli spagnoli. E loro... Eeeh. Usciamo tutti. Guarda. È pieno di spagnoli. Andiamo a amichevole a missione gesuita. Chissà cosa ci dice. Signor gesuita. Buongiorno. Avete qualcosa da farci fare? Ah. Vi consegnerò le hogane. E salpiamo. Trasporto i migranti. Vieni qua dai bel bimbo. Ma guarda quanti ce n'è. Corsero inglese. No. Fermati. Cerchi di sfasciarmi. Ma non... Eh. Si è arreso. Sì. Eh. Ho più di 200 persone. Non ho mai trovato così tanta gente. Ok. Cibo per fortuna. Un po' di cibo perché... Ma le hogane abbiamo detto di portarli. Dove che è andato a fare il giro? Sono mica io. Parliamo col governatore. Adesso sarà contento. No. Gli abbiamo distrutto la piroga. No. No. Mi spiace. Addio. Haha. Eh... Esageriamo? Esageriamo. Pass per tu, dai Sì, ma non mi interessa sta roba Ma ho capito Del baron Raimond Mercante, ti vendo dei cannoni Ti vendo una piroga? Eh? Eh? Una canoa? Di seconda mano? Sono tutti degli appassionati per le canoe di seconda mano Ma ti vendo anche questo brigantino 70 tonnellate Ma no, brigantino è come il nostro a fin fine Potrei tenermelo questo di seconda mano Cioè di scorta Ci metto anche i cannoni di bronzo E va bene, 10.000 Vabbè, non rimane più tanta roba Dove sono andati? Trasporto un nuovo governatore Ma i quelli gli ho detto di andare a Leogane Ma si fanno tutto il giro Ma sono scemi Ma sono scemi forti Ma dove stai andando? Ma dove vai? Leogane è là sotto Io ci sono già andato e tornato Velatura da battaglia Va che questi vanno lenti Come non so che cosa Oddio, qua ci sfasciamo del tutto Ma pure con la velatura da battaglia Vado più veloce di loro Ma che cazzo di roba è possibile Sarà mica possibile una roba del genere? Iniziamo a fare il giro giro tondo Casca il mondo Casca la terra Tutti giù per terra E ancora non è arrivata Giro giro tondo Casca il mondo Casca la terra Tutti giù per terra Ok Alleluia Una miseria Cioè ditemi se mi devo mettere a fare il giro tondo Con delle navi mercantili Per far arrivare Kaiser Ma no ma Basta Ho capito Sentite ragazzi Io direi che per questo episodio Può anche essere tutto Non voglio sovrapporre la prima Sovrapponiamo la seconda Sì Può essere tutto Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto E un commento sul Che cosa andare a fare adesso? Cosa Vi sentireste in spirito Di andare a A fare? Distruggiamo chi? Quando e perché? Ciao a tutti Ciao 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 ciao